Presentata nei giorni scorsi presso la sede della provincia di Macerata la ventesima edizione delle giornate FAI di primavera che si terranno sabato 24 e domenica 25 marzo. Protagonisti quest'anno due gioielli del nostro territorio provinciale, la città di Recanati e quella di Cingoli. Per tutto il fine settimana sarà quindi possibile visitare in modo del tutto gratuito alcuni dei luoghi di maggiore interesse storico e culturale dei due centri. E questo anche attraverso delle visite guidate in cui i turisti saranno accompagnati dagli studenti delle scuole locali, che sotto la direzione di insegnanti e delegati FAI hanno preso parte al progetto Apprendisti Ciceroni. Questo evento per noi è una bellissima occasione di condivisione di quelle che sono le bellezze architettoniche e artistiche della nostra città. È una città che si sta preparando, infatti i commercianti, i ristoratori, associazioni di volontariato, amministrazione comunale stanno predisponendo il tutto. E come abbiamo già detto prima in conferenza stampa, sarà possibile visitare queste bellezze architettoniche guidate eccezionalmente, solo per questa occasione, dai ragazzi delle nostre scolaresche, che hanno appunto seguito un percorso di formazione da alcuni mesi e saranno quindi in grado di fornire a turisti e visitatori tutte le informazioni necessarie. Precanati con la storia, la tradizione, i luoghi, il paesaggio, Giacomo Leopardi, Begnamino Gigli è un punto di riferimento che supera quelli che sono i confini di un territorio. Per questo abbiamo aderito volentieri ad una iniziativa che vuol fare conoscere anche altri luoghi meno noti della città. Pensiamo a Palazzo Venieri, che è la sede storica del nostro liceo classico. Malleus, che è un'altra esperienza con la riproposizione in chiave moderna di quelle che sono le tradizioni delle antiche botteghe amanuenzi. Poi chiaramente Casa Leopardi, il Museo Gigli, vuole essere un momento di incontro per far conoscere questi luoghi, per viverli e soprattutto per farli apprezzare dalle scuole che sono state coinvolte in progetti didattici molto importanti. Grazie a tutti.